Eccellenza, finalmente ci siamo, mancano ormai 72 ore più o meno al Bomba Day, l'abbiamo sopranomigliato così anche se non è particolarmente bella come definizione e tutto sta procedendo regolarmente. Guardi, io lo chiamerei Disinnesco Day, diciamo, bomba, sì, disinneschiamo una bomba ma noi parliamo di Disinnesco Day, sicuramente. No, ripeto, ci siamo, era una cosa da fare, ci siamo affidati al meglio dei professionisti in tutti i sensi, sia a cominciare dagli artificieri, a cominciare dalla protezione civile Liguria, a cominciare dalla ASL numero uno, ai volontari, alla Croce Rossa, a tutti, alle forze dell'ordine, c'è stato veramente un concorso spontaneo, ecco, veramente, non solo fatto col cuore, per cercare di alleviare al meglio quelli che sono i disagi che comunque ci saranno per le persone che dovranno allontanarsi dalle proprie case, dalle proprie abitazioni. Comunque, ripeto, come hanno spiegato molto bene i sindaci, sono state allestite delle strutture che consentiranno di passare in maniera lo più comoda possibile queste ore, che speriamo siano meno di quelle previste, per il disinnesco dalla bomba. Una sfida importante per tutte le istituzioni e gli attori attorno alla giornata di domenica, come confermatoci dal sindaco di Taggia, Mario Conio. È una sfida importante, perché comunque ci troviamo ad affrontare davvero un piano di evacuazione che forse mai Taggia aveva conosciuto, circa 8.000, saluto il prefetto perché è giusto salutarlo, circa 8.000 persone da evacuare. Non ricordo che Taggia abbia conosciuto appunto un'azione di questo tipo, ci stiamo facendo trovare pronti. Si riesce a lavorare così, a ottenere questi risultati quando c'è la collaborazione di tutti, perché comunque c'è stato davvero da parte di Prefettura un'attività di coordinamento molto importante. Protezione Civile della Regione Liguria ci ha dato una grande assistenza. Pensate che noi occuperemo circa 70 volontari, tra volontari comunali e volontari di Regione Liguria. Uno sforzo davvero immane. Domani verrà allestita un'importante tensa struttura tra i due edifici scolastici che verranno destinati a questa funzione. Ci sarà poi quindi da accogliere questi cittadini. Noi lo faremo appunto nei pressi scolastici, dando finalità diverse. Vado a titolo esemplificativo, la scuola Ruffini avrà l'obiettivo di accogliere le famiglie con anziani, proprio perché è una collocazione, una conformazione che rende più agevole questa possibilità. La scuola Soleri riceverà invece famiglie con bambini, ci saranno spazi dedicati alle mamme ad esempio. Ci sarà il centro operativo dove si raccoglieranno appunto il nostro sistema di videosorveglianza e le forze dell'ordine per coordinare le attività. Ci sarà il servizio mensa che dovrà comunque dare pasto a tutte le persone coinvolte in questa operazione. Parliamo di due realmente importanti. Ci sono poi altri spazi comunali dedicati, cito due fra tutti, lo sferisterio comunale che sarà destinato a parcheggio per permettere le persone auto munite che si spostrano da arma, deve avere comunque un parcheggio agevole, poi il complesso del campo Marzocchini, il campo di calcia, che invece ospiterà i cittadini positivi Covid. Ad oggi sono circa 100 quelli interessati della zona rossa, troveranno nel campo strutture dedicate, troveranno personale sanitario che li assisterà, troveranno personale di Croce Rossa che presterà a loro la debita attenzione. Avranno un parcheggio dedicato in modo che non ci siano poi contatti fra persone positive e non. Quindi una macchina che si è messa in moto, da già oggi pomeriggio noi interveremo sulle aree, è una sfida che va vinta nel rispetto della sicurezza e permettetemi l'ultimo appello ai cittadini perché non è volontà di nessuno dare disagi ma questa è un'operazione che andava assolutamente fatta e che comunque non dimentichiamoci che ha una piccola percentuale di rischio, rischio che è in carico al nostro esercito che saprà sicuramente gestire al meglio queste operazioni. Però stringiamoci intorno davvero al nostro esercito perché poi il nostro disagio rispetto al loro potenziale pericolo è davvero poca cosa. Riva Ligure vede il 35% dei residenti che saranno evacuati, un lavoro leggermente inferiore di quello di Taggia ma sempre molto probante. Un lavoro impegnativo, un lavoro che ci impegniamo a fare con serietà e con serenità. Ci siamo affidati alla professionalità del genere artificieri della Brigata Taurinense, sono persone e professionisti che sanno quello che fare, noi ci siamo adeguati ai loro protocolli, abbiamo messo in piedi una macchina organizzativa piuttosto imponente, devo ringraziare i volontari perché senza il volontariato tutta questa operazione sarebbe stata difficile da gestire soprattutto dal punto di vista logistico. Siamo pronti, ci siamo rinvocati le mani che speriamo che arrivi velocemente domenica e che il bel tempo ci assista. Ci sarà anche la possibilità che tutto si risolva in tempi inferiori rispetto a quelli previsti? Questo è l'ospicio, da parte nostra ci siamo tenuti sulle 12 ore canoniche date dai protocolli, abbiamo previsto una serie di aree e ospitalità sia per le persone con difficoltà motore, sia per i covid positivi, sia per i degenti della casa di riposo Le Grange. Ancora creeremo un circuito tramite bus navette messo a disposizione dall'RT con le quali permettere alle persone non automunite di raggiungere le aree previste per l'ospitalità degli evacuati. Tutto è stato fatto nel miglior modo possibile, sicuramente confidiamo nella pazienza e nel buon senso delle persone e un piccolo sacrificio per poi riprendere nel migliore dei modi la vita normale. Grazie